Musica Incidente sul lavoro questa mattina a Riva del Garda in località Pasina. In un cantiere d'Ile è rimasto ferito gravemente un operaio quarantenne di San Lorenzo in Banale, appena operato alla Santa Chiara di Trento. Ivana Buscelli L'infortunio è accaduto poco prima delle 10 in un cantiere per la costruzione di una palazzina a Riva del Garda. L'operaio è rimasto con la gamba destra schiacciata sotto una piccola pala con davanti una vasca per miscelare il cemento. Secondo una prima ricostruzione l'uomo sceso dal mezzo sarebbe scivolato finendo nell'impassatrice. Delicato e lungo, quasi un'ora, reso ancora più complicato dalle urla di dolore l'intervento dei vigi del fuoco di Riva del Garda che con la pinza idraulica hanno tagliato la vasca per liberarlo. L'operaio è stato stabilizzato e poi trasportato con l'elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni sono gravi, la gamba è schiacciata ma non rischia la vita. Sul posto anche i carabinieri, la polizia e l'ispettorato del lavoro ai quali spetta il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente. Grazie. Grazie. Grazie.